Avola, lavori conclusi allo stadio Meno di Pasquale, aperto alla Tribuna Est con 500 posti. Lo stadio comunale Meno di Pasquale è ufficialmente agibile nella sua interezza e sono conclusi i lavori che vedono l'apertura della Tribuna Est per 500 posti. Portiamo avanti con impegno quotidiano ogni iniziativa che fa vivere in pieno le nostre strutture. Le parole del Sindaco di Avola a Rossana Cannata si tratta di un'opera portata avanti dalla mia amministrazione che si aggiunge alla Tribuna Ovest già piena dei tifosi della nostra SD Città di Avola. Ieri i tifosi del Vittorio sono stati ospitati per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia a promozione e assieme al pubblico di casa hanno dato vita a una bella giornata di sport.